Buongiorno da Giuseppe Reca, oggi sabato 13 luglio. Il GIP del Tribunale di Palermo ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Maurizio Costa, l'ex dirigente regionale e responsabile della protezione civile di Agrigento, raggiunto dal provvedimento restrittivo nell'ambito dell'inchiesta relativa ad alcuni appalti, tra cui quello che ha portato alla realizzazione del lab vaccinale di Sciacca. È stata accolta all'istanza presentata dal suo legale, l'avvocato Fabrizio Di Paola, che faceva leva sullo stato di salute precario dell'indagato, Costa è accusato di corruzione falso. Nel corso di un incontro che si è svolto ieri ad Agrigento, il capogruppo all'ARS del Partito Democratico, Michele Catanzaro, ha convenuto un incontro a Sciacca con il direttore generale dell'ASPE di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per fare il punto della situazione relativa al presidio ospedaliero Giovanni Paolo II e dai servizi territoriali. Un incontro scaturito dalla necessità di chiarire alcune annosse problematiche che creano disagio all'utenza. L'iniziativa è in programma lunedì 15 luglio alle ore 16 e l'aveva richiesta anche il sindaco Fabio Termine. Ci saranno anche gruppi consigliari. Quattro misure cautelari, tre autosaloni sequestrati a Canicattini, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura, dispone la misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale, dedito all'illecito commercio di autovetture di seconda mano con contachilometri manomessi. Dagli accertamenti è emersa la manomissione di ben 102 vetture. Trenta nuovi carabinieri sono stati assegnati definitivamente alle stazioni della provincia di Agrigento. Sono arrivati ieri e da oggi saranno in servizio. A questi si aggiungono in tirocinio per il periodo estivo ulteriori sette allievi marescialli e un sottotenente che ha appena ultimato il primo anno del corso biennale presso la scuola ufficiali. I nuovi militari arrivano dalle scuole allievi. L'amministrazione comunale di Menfi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con aziende, associazioni e altri enti in un'ottica di promozione e di valorizzazione della produzione olivicola, un progetto con cui si vuole favorire un'offerta integrata tra olio, cultura, salute, benessere, tutela del paesaggio e sviluppo turistico. Grazie alla compartecipazione di alcuni partners sostenitori finanziari. Nei prossimi giorni sarà anche fatta richiesta di adesione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Noi siamo favorevoli alla ZTL ma gli orari devono essere modificati. Così l'Associazione Strutture Turistiche del Centro Storico è intervenuta dopo l'incontro promosso dai Presidenti della Commissione Attività Produttive e Spettacolo del Comune di Sciacca per l'Associazione. Il provvedimento emanato dall'amministrazione deve essere rivisto nei termini e nei modi con possibilità di istituire la ZTL dalle 20 alle 2 di ogni giorno, con proroga fino alle 4 nel mese di agosto. Lunedì il caso ZTL sarà all'esame del Consiglio Comunale di Sciacca. Il 77% della costa siciliana è a rischio di erosione e il 56% è stato cancellato dall'avanzata del cemento con il risultato che in 15 anni è scomparso il 6% del litorale. A denunciarlo è l'Egambiente Sicilia che sottolinea come le cause del rischio di erosione siano diverse, ma quelle che hanno inciso di più negli ultimi 30 anni sono stati gli interventi di artificializzazione e cementificazione, sia legale che illegale, realizzati lungo le nostre coste. È tutto per questa mattina, grazie per averci seguito. Buona giornata da Giuseppe Rec. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.